carissimi di nuovo bentornati oggi con questa mezza zucca faremo un primo piatto veramente ottimo ma soprattutto un po' romano si con la zucca c'entra poco però c'entra il buon pecorino e ora ci siete dai che si mangia bene adesso prendiamo la nostra zucca la tagliamo a metà e poi quella metà la andiamo a cuocere adesso questa zucca la mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti allora la zucca è cotta adesso andremo a scavare con un cucchiaio guardare come come diventa facile e poi andiamo a mettere all'interno di un bicchiere alto e poi dopo lo andremo a frullare allora io un po di zucca l'ho tolta perché era veramente tanta adesso andiamo a mettere un filo d'olio il sale il pepe e per renderlo un pochino più cremoso adesso ci andiamo a mettere un pochino di stracchino poi voi potete mettere il formaggio spalmabile oppure qualsiasi altro formaggio cremoso un goccio di latte adesso andremo a frullare gente guardate qui vi dovrete aspettare belle ricette con questo guanciale perché è qualcosa di fantastico preso a piedicolle da peppino e angelo che sono due macellai fantastici e va prenotato parecchi mesi prima questo c'è già sette mesi di stagionatura uno spettacolo bene adesso andiamo a tagliarlo facciamo delle fette spesse ecco fatto ok andiamo a togliere intanto questa parte come vedete gialla e quindi rancita e andiamo a togliere la cotenna e poi andiamo a togliere la parte sopra dove c'è il pepe che non è buona chiaramente e poi lo andiamo a tagliare a listarelle piuttosto spesse ecco qua adesso procediamo con gli altri allora andiamo a tostare il nostro guanciale ha fatto il suo dovere allora adesso andremo a togliere il guanciale e lo metteremo dentro una ciotola l'acqua bolle e buttiamo la pasta andiamoci aggiungere un pochino di acqua di cottura al nostro condimento ora andiamo ad aggiungerci la nostra crema di zucca mettiamo un po' del nostro guanciale e un pochino di pecorino è pronto